Assessore Verna, a margine del weekend appena trascorso ma soprattutto della nuova ordinanza del primo cittadino, quindi le maggiori restrizioni per il centro della città di Teramo, qual è il resoconto? Il resoconto positivo, visto direttamente sul campo sabato pomeriggio il divieto di stare insieme, poi bevendosi qualcosa purtroppo provocava assembramenti, l'ordinanza ha limitato molto questa situazione, dobbiamo adesso limare invece le problematiche che sono collegate ai supermercati dove purtroppo qualche maggiorenne acquista alcolici a dei minorenni, su questa cosa abbiamo tempo fino al prossimo venerdì per lavorarci, che pensiamo che adesso lì bisogna trovare una soluzione anche non attraverso un'imposizione ma attraverso un'interlocuzione con i titolari dei supermercati per evitare questo fenomeno che poi si andava a sommare a quello vicino ai bar. I bar sono andati tutti quanti molto molto bene, tranne in alcune situazioni dove la nostra polizia locale è intervenuta direttamente sulle questioni dei distributori automatici, diciamo c'è stata una situazione al 50% dove la metà ha rispettato le disposizioni, l'altra metà no, stiamo valutando adesso eventuali verbali relativi sanzioni per questi inadempimenti. Quindi sicuramente un bilancio positivo dovuto purtroppo a una situazione delle settimane scorse insostenibile, insostenibile perché lo dico i numeri di queste settimane purtroppo di questo virus che sta tornando prepotentemente con la variante inglese soprattutto in zone limitrofe a quella nostra, quindi il nostro impegno è tutelare la salute dei cittadini. Speriamo che Teramo torni a essere piena di ragazzi, di giovani, di cittadini che la vogliono vivere e frequentare appena questa pandemia sarà passata o comunque saremo almeno la maggior parte vaccinati.